Montebello Vicentino. Sono servite quasi due ore di intenso lavoro ai vigili del fuoco a Corsi da Arzignano per avere ragione dell'incendio di una BMW 520. L'autista poco prima, nel tardo pomeriggio di ieri, stava facendo manovra per parcheggiare il mezzo nel garage sotterraneo della propria abitazione. Quando, percepito un odore improvviso di fumo, ha intuito il pericolo e innestato repentinamente la retromarcia. L'uomo è poi immediatamente balzato fuori dall'auto, trascinando con sé la piccola figlia con cui era in viaggio. Appena in tempo, prima che l'automobile fosse avvolta dalle fiamme. Un guasto elettromeccanico potrebbe essere la causa del rogo ancora al vaglio dei vigili del fuoco.